allora ammazza che potenza che ho pezzo di merda è lui che mi ha ucciso prima ah che c'è non riesci a prendermi no no di sotto atteso to schifoso maledizione l'ho perso l'ho perso di vista anche sott'acqua addirittura che scritto sto ma che è sto c'è serva tutti bentornati in questo nuovo video sono toni gamer 17 ragazzi oggi ho voluto portare un piccolo gameplay visto che ho già portato un tutorial su come scaricarlo a questo punto non mi resta che portare un piccolo gameplay per pochi minuti e farvi vedere anche con come sto gioco come bello è fantastico molto rilassante a questo punto mi basta che prendere un po di pietra legna e cominciare a fare un po di picconi un'ascia qualcosa tipo per farmare allora vediamo i bastoncini di legno ce li abbiamo sono morto lì e ho perso tutta la mia roba e per forza chi muore perde il suo loot pietra legna craftiamo e cosa possiamo craftare qui un'ascia ok ok perfetto e non ci resta chi prendere un po di legna ecco qua perché mi servono le frecce quindi ammazza che potenza che ho vai la legna è molto importante quindi bisogna sempre prenderla ok le piante si tolgono qua ok vai così ho perso anche la pelle quindi sono un po incazzato eh allora ammazza che potenza che ho e allora sto incazzato sto eh la pietra un po la pietra prendi qua prendi qua vediamo quanta pietra abbiamo stiamo livellando e basta fare tutto 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 quindi qui consumiamo anche il vigore ok l'energia è tutto ok quindi dov'è 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 allora faccio la torcia le frecce due eh solo due eh solo due posso farmi le frecce cos'è la fibra ah questa hai capito guarda qua guarda qua guarda guarda vediamo eh vai così 32 frecce ora manca l'arco quindi l'arco come devo farlo cosa è qua gli stick gli stick vai 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 prendi tutto ora facciamoci l'arco e non ci pensiamo più appena trovo un cervo comincio a darmi da fare ok eccolo qua shhh ti vedo ma che è? non ti mi ha visto uh dove vai? ma che cazzo mamma mia oh coniglio? ah è morto è morto è morto è morto è morto vieni qui che ti ho ucciso coniglietto mio allora qui non è come su rust che tu dai delle con l'ascia e colpisci il coniglio così eh e prendi la pelle l'ossa e tutto quindi eh devi fare un piccolo coltello aspetta dov'è la pietra? qui manca la pietra eh manca la pietra sta pure piovendo eh ho sete quindi si beve dal fiume ah che bello si può fare anche una bella una pisciata qua dentro eh quindi eh la pietra altra pietra ve l'ho presa e ci facciamo il coltellino ole si ritorna in sella ragazzi eh dov'è il coniglietto? ho perso il coniglietto no allora ah ecco 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 boom pezzo di merda è lui che mi ha ucciso prima ah che c'è? non riesci a prendermi no? no? fatti sotto atteso sto schifoso maledetto tocca a me a divertirmi eh ah yeah prendi tutto eh ah 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 questo sei questo sei eh? ossa si il coniglietto dove eh? come piccolino il mio coniglietto ce la fai? ok ecco il coniglietto l'abbiamo preso l'abbiamo preso la pioggia la pietra che è sta roba? no la pietra la pietra però facendo i buchi così non lo so come l'hanno fatto eh gli sviluppatori quindi non so che dire non so che dire la pietra prendo la pietra mi butto nel fiume ah giusto ok consumo tutto perfetto ma chi? ecco di qua animale schifoso l'ho preso ma che cazzo fa? che c'è? maledizione l'ho perso l'ho perso di vista ma che sono i pesci? anche sott'acqua addirittura oddio che scritto sto ma che è sto c'è? ma non muore ora sei mio ah grazie è morto è morto è morto è morto buono quando si mangia il cervo sta sotto acqua devo prenderlo e portarlo sulle spalle eh già si può fare si può fare si può fare quindi vediamo dove sta è sta qua e dove sta? no l'amico l'ho perso è sta qua no l'ho perso prendi tutto a posto va a posto poi ci mettiamo un falò qui la pietra mi serve quindi questo gioco è molto rilassante non ti stanca proprio non ti stanca proprio la pietra prendi no questo lo faccio io è sta cosa la maglia si che mi manca qua? il falò l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto il falò quindi a questo punto lo posizioniamo e cominciamo a cucinare e qua metti eh lo metto qua allora la legna e la carne e vabbè ragazzi avete capito come si gioca è molto bello molto rilassante quindi mi raccomando iscrivetevi a questo canale io adesso devo mangiare e grazie a tutti per questa visione lasciate un bel like e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao